tino hai preso 100 euro per fare il video e siccome noi siamo complici ne rispondi in solido 50 li quindi 50 a te e 50 a me metti in saccoccia cosa notoria a tutti che quinto potere tino antonio eleonora raffaele prendano soldi soldi per fare video faccio una citazione questa è una citazione non tutti la capiscono non tutti la capiscono e per pochi perché stiamo enfatizzando questa cosa perché sei mesi fa lo so che la tua memoria è labile sei mesi fa fummo pesantemente accusati di aver preso appunto 100 euro da alcuni ex dipendenti dell'ex senatore massimo cassano per fare un video di protesta per sostegno alla loro protesta vedi vedi che è la memoria lo so che tu arrivi in ritardo ma arrivi lo so lo so e quindi cosa è successo andammo proprio qui ormai celeberrima caserma non esagerare celeberrima caserma dei carabinieri di adelfia mia città di di residenza per sporgere quell'era nei confronti della figlia dell'ex senatore cassano perché aveva fatto non immaginare aveva proprio detto che noi da quei dipendenti che tra l'altro vivevano una condizione economica precaria proprio in virtù di quella situazione lavorativa avessimo preso questi soldi questa cosa non ci è andata giù e quando le cose non ci vanno giù cerchiamo di ottenere una rivalza anche perché noi lavoriamo con l'immagine l'immagine per noi è tutto carotino lo so te l'ho servita su un piatto d'argento hai ragione anche oggi mi sono fatto la barba mi sono depilato mi sono fatto la barba la sono spuntata mi sono depilato sembro un uomo un uomo chiudiamo aperto e chiusa subito la parentesi per dire cosa che oggi sono stato ascoltato non me l'ho ancora preso ci vorrà del tempo ci vorrà del tempo a sommaria informazione hanno chiesto ulteriori informazioni perché il pm ha delegato proprio i carabinieri di adelfia di fare altri accertamenti perché adesso dopo sei mesi tino questi sono i tempi dopo sei mesi bisognerà capire se la signora cassano sarà rinviata a giudizio oppure se deciderà di archiviare la sua posizione e nel caso noi potremo anche decidere questo prevede la legge italiana di opporci alla richiesta di archiviazione capito in confusione fa cioè questo è un po non il fatto che viene alla corte d'assistica delfia sventolando la cartellina della reale mutua assicurazione e secondo quello che noi siamo riusciti ad apprendere pare che quella querida non sia stata neanche mai fatta io io allora io se tu hai se tu mi dici scommettici qualcosa magari poco a 100 euro da 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 50 50 la metti tu 50 235 ha detto io 100 euro le prendo io hai capito è il gioco di prestigio il mago antonio risolve sempre la situazione lo sai lo sai e quindi tino non sappiamo nemmeno se effettivamente l'abbia qui probabilmente non l'ha fatta non sappiamo se poi è tornato nel suo paese e ha querelato per la violazione della privacy togli la mano per la violazione della privacy noi però in ogni caso siamo nel pieno rispetto della legge e la legge ha dei tempi a dei modi e quindi è possibile che tu arrivi così e viene a fare il processo tra l'altro tra l'altro un processo chiuso no perché è stato detto addirittura che siamo stati condannati subito d'amblè d'amblè vabbè comunque non so se possiamo usare questi soldi per ripagare della benzina il fastidio questi soldi quante volte le siamo struttino quante volte abbiamo speso questi soldi non si capisce va bene vi terremo informati chissà fra sei mesi ancora o altro tempo ancora per ora e solo per ora dalla ormai celeberrima forte d'assise di adelfia stazione dei carabinieri di adelfia è quasi tutto tino fiduciosi nella giustizia vi lasciamo che belle parole pregni e di significato deve passare signora tutti devono passare hanno diritto tutti di passare o no tutti hanno diritto di fare quello che vogliono anche di passare e tu io no 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 io non ho diritti